Un saluto a tutti. Io sono Maurello Negro e all'ormai prossima elezione amministrativa di giugno sarò il candidato sindaco di un gruppo di cittadini che hanno formato una lista civica per Gattinare. Sono nato nella città del Vino nel marzo del 1950. Mi sono laureato in ingegneria civile e politecnico di Torino e ho lavorato come dirigente nella regione Piemonte. Ora sono in pensione. Sono sposato con Graziana e abbiamo due figli, Andrea e Davide. La lista Gattinare impegno comune, che ho l'onore di presiedere, è formata da persone che hanno intenzione di impegnarsi per la collettività a prescindere dall'idea politica. Un gruppo eterogeneo, accomunato dall'idea di operare nella massima trasparenza e con il più ampio confronto tra la persone e le associazioni. Il nostro simbolo rappresenta, nella parola impegno, la nostra attitudine al servizio delle persone, mentre nel termine comune, come aggettivo, assume il significato di condivisione e come sostantivo evidenza il carattere esquisitamente civico della lista. Allo scopo di individuare le priorità di intervento sono stati avviati numerosi sondaggi e questionari, al fine di coinvolgere tutta la popolazione raccogliendo le idee sia online sia in piazza, così da sviluppare un programma che tenesse conto delle problematiche in tutti i settori. Il testo è molto articolato e potete approfondirlo sul nostro sito internet oppure, se meglio credete, sui materiali cartacei. In questa occasione però vorrei segnalarvi solo alcuni punti del programma, che a fronte di un basso impatto di spesa contribuiscono significativamente alla vivibilità della nostra città. Il progetto Sicurezza 360 gradi consiste in una supervisione settimanale e attiva del territorio da parte dei consiglieri comunali, al fine di segnalare situazioni insalubre del territorio. Un corso gratuito per i commercianti, affinché tutti possano scoprire e utilizzare i servizi forniti dalla rete internet. La realizzazione di una nuova area urbana in zona Castellazzo, di collegamento tra il Capoluogo e San Bernardo, per lo sviluppo di alcuni servizi come un'area camper, l'area spot e relax e un'area attrezzata per cani. Il progetto Più ricicli, meno paghi, che prevede l'installazione di ecocompattatori al fine di riciclare bottiglie, tappi e altri contenitori e per ottenere contestualmente una riduzione sulla tassa rifiuti. Una Family Card, cioè una tessera gratuita emessa dal Comune che offre sconti e agevolazioni alle famiglie bisognose. Per recuperare alcune delle risorse utili all'attuazione del programma e per un mio concreto contributo alla causa, ho deciso che rinuncerò totalmente per l'intero mandato all'indenità di carica, questo perché sono fermamente convinto che si debba dare un esempio di sacrificio e coerenza rispetto al momento difficile del Paese. Insieme agli assessori che ridurranno lo stipendio e con l'eliminazione della figura del Presidente del Consiglio Comunale risparmieremo oltre 230.000 euro, con un abbattimento complessivo dei costi di amministrazione del 50%. Il mio gruppo, che lavora e lavorerà per tutti e non per un solo sindaco, è formato da Franco Barattino, Laura Filiberti, Lino Casaccia, Yolanda Russo, Marcello Mantovani, Elena Sella, Valerio Patriarca, Marta Stoppa, Fabio Resiglione, Giulia Cervellin, Paolo Foscolo e Veronica Biondi. Se ritenete che le cose possano cambiare, accordateci la vostra fiducia. Alle urne dateci il vostro voto, crociando la lista numero uno, gattinare impegno comune. Aspolfe, che in italiano significa si può fare.